Da sempre, affermati artisti di tutto il mondo vengono a Carrara ad apprendere i segreti della scultura. Con questo progetto, Isaac offre ai giovani studenti questa straordinaria possibilità. Ogni campus prevede una durata di 14 giorni. Le lezioni, per un totale di 76 ore di scultura e di plastica, si svolgeranno negli spaziosi studi dell'Accademia di Belle Arti e dell'Istituto Professionale del Marmo Pietro Tacca. I laboratori sono attrezzati con tutto il materiale necessario alle lezioni. I professori insegneranno le varie tecniche e strumenti della scultura e della modellazione plastica. Ogni studente avrà a disposizione la propria postazione. È un blocco di marmo con cui realizzare la propria scultura. I campus Michelangelo si propongono come esperienza unica, di studio e di vita. Imparerete un'arte che potrebbe diventare una professione. Con questa straordinaria esperienza porterete a casa un importante arricchimento, personale e professionale.